Il pomeriggio d'Italia 1 è una festa di cartoni. Il prossimo arriva adesso. Oggi Frollis ti regala i tatuaggi di Shark Tale. Italiana! Ciao, sono Laura Pausine, anch'io. Ciao, sono Smezzali e sono anch'io a Top of the Pops. Ciao, sono Anastasia e tu guardi Top of the Pops. Ciao, sono Justine e tu guardi Top of the Pops. Sono Palo Meneguzzi. Top of the Pops, la Hit Palette numero uno. Sabato 13.30 Italia 1. Ora anche in edicola con il giornale di Top of the Pops. Sono arrivati. Puoi sfuggire ad uno di loro, però non si muovono mai soli. Aggressivi e pericolosi immobilizzano con il loro morso avvelenato. Colpiscono con il loro disco. Bionicle Visorac, il tuo destino è deciso. Troppo buono, eh? Mangia da nette e edicola avrà in regalo le nuovissime Cars Panini. Così finiamo la raccolta. B-b-b-barbie-bo! La palla rimbalzante È il gioco più emozionante Salta su Barbie Kangaroo, I love you! Barbie Kangaroo, solo da mondo! B-barbie-bo! Kangaroo! Entra nel mondo Kangaroo! Salta anche tu su Winnie the Pooh Kangaroo! Salta in sella Winnie the Pooh Kangaroo! La mega palla ultra saltellante! Winnie the Pooh Kangaroo, solo da mondo! Ehi, ringhio, vediamo se sei così forte. Sfida i tuoi amici a Gioca Goal! Tocca a me! No, tocca a me! Il nuovo fantastico gioco che trovi dentro ogni Big Bubble. Big Bubble Gioca Goal, un gioco da campione. E puoi anche vincere uno dei duemila favolosi palloni in palio. Parola di ringhio. Ficzione! Ficzione! Crash Pyramidium! Lancia a tutta velocità Vampire e Zephyro dalle megaturpine motorizzate. Sempre più veloci, sempre più forte. Ma attento alla piramide! Sta per esplodere! Crash Pyramidium, pista ad alta velocità. Stiappaggiando colazione e poi non dà un'eruzione. Ora ancora più cioccolato! I ciocco Crispy salvo legnato! O il vulcano! Partiamo alla ricerca con la mappa in mano. Croco, osserva e ci si attacca. Non vuol perdersi il vulcano. Ma io prendo una stradina e lo incastro tra le spine. Tutto il cioccolato è nostro. Questa sia una bella fine. Sì! Da oggi i ciocco Crispy rendono il latte ancora più cioccolatoso. C'è tutto il cioccolato con il canno scocotop! Gummy Watch! Senti il suo profumo, non te lo scardi più! Otto fragranzi, tutte da provare! Cinturini uniformabili, orologi intercambiabili. Pura con gli strass! L'estate 2005 ha il profumo dei nuovi Gummy Watch! Gummy Watch! Ghostbubble! Un fantasma in ogni bolla, se ti prende non ti molla! Ghostbubble! Ghostbubble! Col Ghostgas che pozione di fantasma e un'invasione! Ghostbubble! Se la bolla fai scoppiare! Ghostbubble! Sono da Gink! Sono arrivati! Puoi sfuggire ad uno di loro, però non si muovono mai soli! Aggressivi e pericolosi immobilizzano con il loro morso avvenenato! Colpiscono con il loro disco! Bionicle Visorak! Il tuo destino è deciso! Italia 1! Super Sarabanda! Vuoi quattro buoni motivi per non perdere la finalissima di domenica? Primo motivo! Max! Secondo motivo! Valentina! Terzo motivo! La professora! Quarto motivo! Cesare! Tutto qui? E un monte premi da 250.000 euro! Risposta! Esatta! Super Sarabanda! La finale! Domenica alle 19.55 Italia 1! Il pomeriggio di Italia 1 è una festa di cartoni! Il prossimo arriva adesso! Un elefantino bianco volante! Io so che gli elefanti bianchi esistono, ma quelli che volano no! Nei sogni tutto è possibile e il mio volava!